Abbiamo raccolto dei soldi per creare dei buoni spesa per le famiglie bisognose d'Arezzo. Non saranno cifre esorbitanti ma è il nostro impegno massimo. Questi sono 30 buoni, come già abbiamo detto, ognuno di 40 euro. Li può spendere presso questo punto vendita e fatene buon uso, questi sono vostri. È un dono molto gradito e anche di grande spessore perché sono 30 buoni del valore di 40 euro ciascuno che andranno a sostenere le famiglie e anche i nostri servizi, le menze, le case di accoglienza. L'esercito italiano è da sempre una forza di pace. Le guerre italiane sono dimenticate, ormai sono tanto tempo fa. Noi vogliamo essere nel tessuto della città d'Arezzo. Avremo mille cose da proporre alla città d'Arezzo, una per volta. Il sindaco Ghinelli solitamente ci asseconda nel nostro raduno annuale, è il nostro ospite ogni volta e con un po' di fortuna, un po' di impegno magari di queste iniziative ne potremo fare anche d'altri. Sono il presidente dei Fanti del 225esimo. In questo momento sto rappresentando tutti, tutti i Fanti, tutte le persone che sono passate dall'ex caserma Cadorna, che hanno fatto il CAR, che si sono trattenuti anche per tutto l'anno e che, diciamo, con questa associazione sono entrati a far parte di questa famiglia. Beh, è la riprova di quanta sia bella la solidarietà multicolore, perché persone che hanno esperienze vite diverse si ritrovano insieme per dare dei segnali di lotta alle povertà, alle povertà locali, alla crescita di tanti fenomeni di bisogno che in questo momento vedono la nostra realtà carita sempre in prima lini.